Sono le 19.30 di domenica 17 aprile quando un tubo di 40 cm di diametro che conduce petrolio dallo stabilimento Iplom di Busalla al porto di Genova Multedo si spacca nei pressi di Feggino, inondando il rio Omonimo e il rio Pianego, entrambi affluenti del torrente Polcevera. L'ecosistema della zona è immediatamente compromesso. Sono oltre 600 i metri cubi di petrolio che si riversano nei tre corsi d'acqua fino ad arrivare al mare. Nel tentativo di limitare il danno ambientale è stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sistemato delle panne di contenimento per impedire il deflusso del greggio, che ha nel frattempo impregnato i greti dei torrenti in secca. L'equilibrio della flora e della fauna delle zone attraversate dal rio Feggino, dal rio Pianego e dal torrente Polcevera è gravemente danneggiato. ASL 3 Genovese ha predisposto un centro informazioni mobile per rispondere a requisiti di carattere sanitario da parte dei cittadini. Il grave incidente ha avuto un forte impatto sulla popolazione della zona, abituata ad una vita lontana dal caos e dai rumori della città e a stretto contatto con la natura che caratterizza questi luoghi della Val Polcevera. Come si sta vicino alle persone del paese? Comprendendole e aiutandole moralmente e anche psicologicamente al limite, proprio perché sappiano superare questo momento così particolare. Io devo ammettere che sono tre anni che sono amministratore parrocchiale qui di Feggino, mi sono trovato molto bene con la popolazione, mi sono inserito molto bene, sono stato molto ben accolto e quindi questa è una realtà che va veramente sostenuta, sia moralmente ma anche con tante iniziative. Nel tavolo di emergenza, riunitosi in prefettura mercoledì 20 aprile, il Presidente della Regione ha posto come obiettivo la messa in sicurezza del rio Feggino e del torrente Polcevera, prima dell'arrivo dell'ondata di maltempo prevista nel fine settimana. La pioggia infatti potrebbe accelerare il deflusso del petrolio verso il mare.